A poche ore dalla stesa in via Toledo di ieri arrivano gli arresti dei carabinieri. In manette ci sono finite le due persone che lo scorso 7 settembre spararono all'impazzata sulla centralissima strada. Una stesa, una dimostrazione di forza organizzata per incutere timore a quelli dei quartieri e affermare la superiorità dei gruppi del pallonetto a Santa Lucia anche su via Toledo e negli attigui quartieri spagnoli. Nel corso delle indagini è addirittura emerso che era stata ampiamente annunciata agli amici degli sparatori e che questi ultimi la notte del 7 settembre si erano radunati su via Toledo nel centro del capoluogo campano per assistere con tanto di smartphone in mano ai colpi di pistola calibro 9 sparati in aria passando con una moto ad alta velocità in mezzo alle persone che si attardavano a passeggio. Dimostrazione tra l'altro realizzata in due tempi. Il primo tentativo era andato a vuoto perché la pistola si era inceppata. Gli autori sono due cugini, un 18enne già noto alle forze dell'ordine e un 23enne incensurato. Entrambi sono imparentati con personaggi di spicco del clan camorristico degli Elia, operante per il controllo degli affari illeciti nel pallonetto a Santa Lucia, un rione popolare tra i quartieri spagnoli e Chiaia. Gli hanno identificati e arrestati i carabinieri della compagnia Napoli Centro dopo indagini coordinate dalla procura e su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli, grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e alla presenza in strada degli amici dei due giovani. Il video ne immortala uno che li indica ai compagni qualche secondo prima che passino sparando.